Burloni, oggi con Loco che zappa la vigna dietro di noi, che poi non è una vigna ma il grano, vi dico che oggi ogni volta che apriamo un Enderchest guadagneremo un cuore che ci servirà per lo scontro finale. Però l'Enderchest dobbiamo craftarla e non sarà facile perché avremo solo e unicamente 20 minuti. Prima di iniziare ragazzi vi ricordo di iscrivervi al canale se volete che la prossima volta mi sparo questo disinfettante in faccia. In un occhio. Se arriviamo a un milione di iscritti entro domani lo faccio. Nel caso lasciate anche un mi piace se volete altri video del genere. Ragazzi non so come dirvelo ma è iniziato. Ho preso il legno. Ho preso il legno. Ho fatto il pane. No ho fatto il pane dai. Il pane qualcuno deve givevarlo. Eh batti, lui l'ha detto. No, io sono più cultivo il pane. Allora chi fa lo loco. Gli facci il pane per favore faccio questa grandissima cortesia. Poi perché il pane che fa schifo le bistecche. Le bistecche si dà le mele d'oro direttamente. Ma sì, voglio fare. Chi se ne frega. Vogliamo le carote d'oro loco ce la fai? Ovvio ovvio. 64 a testa ne vogliamo grazie mille. Esattamente. Ma ho fatto un'altra crafting e ce l'avevo già. Ma le ho batte a me? Vabbè con l'altra le crafting è messo male. Se vuoi te la ridò loco. La rivuoi? No. Va bene, ok, allora no. Ragazzi, ma c'è guardia edit di Amine. Eh, ma tu sei ancora lì. Perché hai fatto l'asce in legno? Perché nessuno fa l'asce in legno? Ma fate schifo, era veramente. Ma un manshaft. Io perché ho fatto il piccone, scusate. Come un manshaft? Ti ho visto, vi sul tuo nome, vi sul tuo nome. Stami lontano, non puoi. Devo andare sotto, devo andare sotto. Ragazzi, è una questione di vita o di morte. Sì, dobbiamo trovare assolutamente in mente una caverna. Potrò tutta una caverna. È unico solo un manshaft. Dai, ragazzi. Non abbiamo capito, ma era sotto di noi, ma scusa. Ma c'è il tuo privato di Nico. Ah, ho capito. Ma dove lo vedi? Ho trovato anche io. Comunque volevo far cogliere i fan il fatto che il mio piccolo schiavallo colgo. Eh, perché io non lo so. Se leggi la lore. Ecco la viola. Con la scritta sulle cose, come farebbe loco. Ok. Ma l'avete fatto sto portale? Non ancora. Io lo so per chiudere ora. Ma l'avete fatto? Spero prendendo l'ossidiana direttamente. Assolutamente sì, mica sono matto. Certo. Il loco è zitto. E' il loco che lo fa col bucket. Bravo, loco! Allora, io sono un bravissimo spedrunner. Se voi non siete in grado di farlo, siete deboli. Ma secondo te perché io stavo prendendo il bucket di acqua? Sicuramente non per farlo! Eh, vabbè, loco. Loco, sei veramente... Siete deboli. Sei speciale. Sei tu debole, l'altro che... Sei tu debole, l'altro che... Sei tu debole, l'altro che... Sei tu... Io non sono mai debole. Ok, allora io sto spaccando lo stesso... Sì, lo siano, ciao. Oh, ma queste gravel vuole darmi alla flint? Mezz'ora che sto spaccando... E' il primo e nico 35. Ho capito, ma il quinto che sto spaccando... Oh, ma allora! Ma veramente! Gravel di fianco. No, ragazzi, sto spaccando lo stesso. Ok, me l'ha data finalmente. Stava per andare anch'io. No, evviva. Ma sì. E io, sai cosa ho fatto? Sono un po' stato furbetto, a differenza tua, penso. Cioè, dimmi. Sono andato e mi sono preso un po' di cose subito. Ah, sì, anch'io altre dieci di ossidiana. No, l'ossidiana non me la sono presa. Hai ragione, forse mi devo prendere... Eh, quindi tornate indietro, dai. Mi stai facendo? Voglio ucciderti. Ma siamo nello stesso portale? No, il mio era sopra e l'ha spaccato. È cattivissimo. Ma fa la stessa cosa, Nico, per quello ti sto... Nico, me lo lasci il mio portale, almeno? Ti ho visto, Nico. Nico, ti ho visto, eh. Stammi lontano. Ti ho visto, Nico. Io, guarda che soffurgo. Io potrei far la cacca e spaccare lo spawner. No, dai, facciamo che le regole dicono che non si può fare, perché se no, veramente qua... Blazor dalla prima. Ciao. Come Blazor dalla prima? Amici, ciao. Però che poi te ne basta solo una, mannaggia a te, mannaggia. Affortunato. Mi ti ho visto, Nico. Dimmi che è qua almeno il coso. Non te lo dirò. Non lo saprai mai. No, mai. Come l'ammazzo? Non ho visto le tracce di Marci. Come il piccone, lo ammazzo. Marci, se vuoi te lo uccido io. Mi servo le enderpearl. Potrei uccidere un enderpearl, però. Eh, già. Yes, 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 yes. Io sono il bastione, infatti mi sono reso colto troppo tardi che questa cosa non funzionava. Devo scappare da qua. Io un po' di oro, prova a scambiare. Eh, si è secondo me. Vandi, è morto. Ma come sei morto, vandi? Eh, sì, un po' di mia. Marci, dove hai trovato il coso? Mi ne ho trovato uno sponato a caso, penso. Ah, peccato. Ok, mi sono fatto i piedini in oro. Dammi subito le enderpearl, per favore. Vai. Non te la darà mai, lo sai? Mi prego. Ok, dammi se cosa? Scambio. Non ci credo. Ma te l'avete veramente al primo? Quattro enderpearl. No, vabbè, non ci posso. Da me, Nico, adesso ce ne dai una testa. Vi giuro, posso... Non ci posso quello che volete. Adesso ce ne dai una testa, Nico. Io un po' ti odio. Eh, ragazzi, Nico ha vinto. Nico ha per forza vinto. Nico ha per forza vinto. Nico, Gigi, sei stato bravo. Bravo, Nico, bravo. Sei stato troppo bravo, sei stato. Dai, io non ho mai sta fortuna. Oh, ma ti prendi sta roba? Ragazzi, mezzo schermo di cuori. Aiuto. Ragazzi, Nico è squalificato. No, palesemente squalificato. Trovarla dopo i dieci minuti. Tutti insieme. Il potere delle fate. Vai, vado nel bioma blu. Tento il bioma blu, ragazzi. Tento il bioma blu, per forza. È l'unica. Mannaccia. Enderpearl primo. Enderpearl primo. Eh, vabbè, però, dillo, però, eh. Enderpearl primo, ragazzi. Enderpearl primo. Ok. Io rimango qui a farlo, ragazzi. Ossidiano. Non ti conviene, secondo me. Dici? Eh, beh, almeno torno. Cioè, te ne fai un po', poi fai farti diamanti. No. Ma che diamanti? Che diamanti? Ma che c'è di me? Ma che c'è di me? Ma che c'è di diamanti? Quando sarò un diamante, allora ti mostrerò la mia armatura. Ho fatto un Enderman in caverna. Vabbè, questo è quasi più fortunato di Nico. Vabbè, io solo stavolta è stato fortunato, eh. Sì, effettivamente Nico è quello sfigato del gruppo. Ok. Ma come è una sfigata? Eh, sì. Sono sempre vultimi queste robe. Ma non è vero. Eh, però c'è Bardic ogni tanto perdi. Eh, guarda, fai te. Sto fattendo pure ora. E stavo tipo, eh, c'è Bardic ogni tanto vince. Bardi te si vuole bene, eh. Sappi che ti si vuole bene. Io non ho parole. Siamo a 7 minuti, ragazzi. Devo riprendermi l'ossidiana adesso. Quanti ne servono? 8 pezzi di ossidiana, vero? Sì. Io mi sa che i diamanti non me li faccio, raga. Ma chi se li fa? Io non gioco la lander, perlo. Io, io, io sì. Allora, ho esattamente fatto l'ender chest adesso. Quindi adesso mi faccio i cuori, intanto. La piazzo. C'è un limite comunque, vero, hai ragione. No, hai ragione. No, hai ragione, diamanti. Sì? Sì, sì. Però io ho tipo diminuito la gui perché sennò non vedi niente. Conto il limite. Eh! Sì, ender, finalmente, mamma mia. Mi sentite, raga? Sì. Che stai spammando? Eh, mi sto facendo i cuori. Ah, non ce la sto più facendo, ragazzi! A quanto sei? Metà schermo, più o meno? No, ancora no. È difficilissimo. Sto impazzendo. Ragazzi, io penso di potermi fermare. Non ce la faccio più. Io no. Guarda che cosa ho trovato. No, diamanti no, raga. Eh, sì. Ok, vabbè, io basta. Mi fermo. Non so quanto sono arrivato, ma mi fermo. Cerco di andare in miniera e trovare i diamanti. A che livello siamo? 67. Mannaggia, raga. Tranquillo, tutto si può fare. Tutto si può fare. No, non si può fare, Nico. Non si può fare. Sto te lo vuoi, tu lo sarai. Marci è uno di noi. Ragazzi, ragazzi, ragazzi. Dimmi, dimmi. 8 diamanti. Guarda, io ne ho trovato anche ancora, se ti può far piacere. Non so se... Ma come fai, Nico? Guarda che a me si è bagata la cosa dei cuori. Ce l'ho fino in altissimo adesso. Non so perché. Ok. E quando rigeneri, quando mangiano un qualcosa. Mi ha raggiunto niente. In realtà io... E allora non lo so. Chi è che ha perso qua? Marci ha perso. Dopo ci diamo. 5,50. Dopo ci diamo forza, vero? Così finiamo prima. Va bene. Diamanti, sì. Ma come altri diamanti, raga. Facciamo anche dopo abbiamo tempo di craftare, vero? Per favore, per favore. E dai, diamo il tempo di craftare. Allora, 7 più 5, 12. 5 ne ho già, mi servono solo 7 e sono full diamante. Ma come sei full diamante? E che dire? Beh, siamo anch'io, ma sto passando bene anch'io. Io non c'ho niente, non c'ho niente. Dai, però ne voglio solo 7, per favore. Solo 7. Ma tu capisci che io sono a livello no. Eh, 5 secondi. Che ti fai del lander? 4. Un cuore in più, non ci sa mai. 2, 1. Ok. Tempo di craftare. Non ci craftiamo. Marci sei in oro. Ho due diamanti che mi avanzano. Sì, hai due diamanti che ti avanzano. Sì, ma non ti voglio andare. Ti prego, ti premo ne uno. Uno solo. Cosa devi farci? I piedini. E quanto armatura hai? Sono full diamante. Allora non ci penso neanche, scusami. Per favore. No. Quello è full diamante, guardalo. E appunto, lo combattiamo assieme. Marci, Marci, cosa ti serve? Dimmi cosa ti serve, Marci. Sono lì, dietro. Vieni, Marci. Me l'ha dato Nico, me l'ha dato. Ok. Il diamante, mi dispiace. Come se toglie sta gui gigante? A uno. Oh, là. Vatti, quanti di matti servono? Sì, e come faccio a craftare con uno di gui, ragazzi? Ci combattete. Aspetta, sto provando a vedere. Non ci vedo, raga. È facile, dai. È una prova di vista, quella che ti fanno gli oculisti. Raga, non vedi. Giù, non vedo. Che lettera vedi? Perché non vedo niente così. Ok, io ci sono. Vai, anche io ci sono. Effect. Give. Chiocciola A. Dite il numero da 1 a 15. 15. 15. Ok. 15 shot, mi fa. No, 15 no. Facciamo... Va bene. Dovete venire tutti giù, però. Ragazzi, non è che partite da giù. No, no. Cioè, guarda come sono concettivo. Guarda come siete messi voi. Allora, tutti giù, va bene? Dico il mio posto. Scendi giù. È iniziata! Eh, perché tutti conto di me? Mamma mia. Questo lancio felino contro loco. Ma perché tutti conto di me, raga? Non capisco, io. Intanto vorrei capire. Cosa vuoi capire? Dici. Quanto toglie di progenza, eh? Ma io non mi sono fatto la spada. Ma come non ti sei fatto la spada? Non mi sono fatto la spada, ragazzi. Ma lo scudo dura tipo tre colpi. Esatto, dura tre colpi. Mi faccio la spada, ragazzi. Ho una palla. Ho paura di usarla. Aiuto. Ho paura, hai paura della palla, per caso? No, sì. Ah, via. Ma io non c'ho più l'armatura, scusatemi. Non ho capito io. Adesso va bene tutto. Quanto mi dai, ancora? Eh, c'è ancora tre file, è ancora un colpo, è ancora un colpo, sono, ecco. Oh, tu ti ho sbagliato, ho sbagliato. Ma come il team, dai. Eh sì, me l'ha chiesto di farlo. Ma questo l'aveva trovato, la mia donna. Ah no, è cosa. Anche voi, raga, no. Ma non vale tutte e due conto di me. Vabbè, loco, c'è nel senso, anche con me l'hanno fatto, pensero quello che ho messo anche peggio. Questo perché è l'unico da dietro. Eh, ho notato. Ah, l'unico c'è un po' capito? Eh, va sempre a finire che è tanto. Ma non mi interessa, faccio vincere a marci piuttosto. Io voglio far vincere marci, devo uccider nico. Ma ragazzi, ma io voglio giocare per il chest, nel senso, non voglio. No, marci, ti prego, se mi lasci uccido un nico. Si gioca tutti contro tutti. Eh, voglio conto di me, tutti contro tutti. Ho appena colpito marci. Adesso dopo due ore. Wow, siete proprio bravi a prendervela con quelli che sono conciati male. No, loco, no, non devi andarli sopra, guarda. Loco sta camperando. Non è vero, no. No, tranquillo, ci penso io. Perché si la mette da campionare. Ma se vuole il campionare, c'è te lo camperare. Vabbè, ho capito. Ma io lo camperare. Ma che scherzo è? Dai. Hai vinto in principio. Ban, loco. Ero già morto, pirla. Oh, mi dissocio. Ciao a tutti.